bello a tutti ragazzi sono sempre io e oggi siamo sul clerks battle e c'è uno zombie a fianco a me bene ne vedremo delle belle secondo me iniziamo non lo so partiamo con una a caso che bel posto c'è io devo prendere queste cose io gli zombie gli zombie morite durata la partita 5 secondi bellissimo ok spara 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 zombie di merda dovete morire male tutta la famiglia deve morire male madonna quante ne sono aiuto madonna quello mi incula quello mi incula quello mi incula madonna troviamo la play demo siamo in un supermercato bene non so cosa devo fare ok prendiamo questo spara lo zombie spara madonna che bucio del culo prendi questo oddio sono circondato muore madonna te morisse il cugino di cancro madonna muori 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 non muore porco zio se vabbè oddio madonna madonna ok adesso attenzione lo zombie di merda muori vabbè non si può eh non muore muori oh k si va bene ciao non mi inculate sono troppo giovane aiuto muori muori ehhh si va bene oh kod dissini alla staan gioia comune ma quando siano muori ma dicendo standing di dare colonia a gioia come in vera muore vai spara devi morire non mi interessa ma da wid oh下 radio devo riuscire a mettere questo pezzo che sono troppi stroia a mentally ok vai sotto a chi tocca non vedo una mazza ma dettagli come come ma è impossibile una cosa del genere passano attraverso che razza di zombie sono questi ma non è possibile no no madonna madonna io rischio di cadere qui se cado sono morto ero già morto a prescindere bene qui bisogna solo sopravvivere non bisogna mettere nessun pezzo nessun niente almeno credo dai dobbiamo fare più uccisioni possibili questi zombie devono morire madonna e che cavolo muore no oddio è babbo sono circondato vai spara spara vai guai li uccidiamo tutti adesso vai muore madonna un vero cecchino e chi sono io vai vai muori ma donna è bello adesso arrivano quelli indistruttibili perché ma ci vuole tanto ad ucciderli eccoli là eccoli là che si avvicinano muoiono male dai dai muore oddio ma sono troppi sono troppi si è impossibile è impossibile vai vai li uccidiamo tutti questa volta c'è la caga muori madonna aumentano sempre di più non è possibile e dove è possibile vai muori madonna madonna sono troppi sono troppi oddio come li sto uccidendo male la madonna e nemmeno se ero un cecchino professionista dai dai suu eh però sono giganti oh ho preso la vita almeno un buco di culo nella vita bisogna avere vai 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 diamine eh vabbè ma non è possibile venite qua sto sparando al muro ma dettagli vai vai muori vai due in uno dai ce la facciamo dai madonna quanti li ho uccisi e dai però perché non è possibile vai vai spara che cavolo dai spara vedi però questo pezzo di cacca dai e che cavolo non andai a prendere la vita però sono circondato vai vola do 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 dove sono finito prendessa passo alla vita è più difficile del previsto sto gioco perché ci sono un miliardo di zombie e tu non riesci a sopravvivere con un miliardo di zombie no nemmeno se fosse l'apocalisse ma giorni e che che non muoiono donna di cristo dai dai suu dai un po gli ho tolti davanti uccidiamo questi bastardini grossi e che che dai dai suu muori muori dai questa è la mia tecnica infallibile era infallibile perché si stanno avvicinando triliardi di zombie me ne fugo vai prendi 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 se 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 e porco vabbè vabbè già qualcosa questo è già un passo avanti vai vai l'ultimo colpo dai se ce la facciamo rieccomi qua che sto sparare muore muore madonna se muore muore madonna non ce la faccio ma è bella bene vai ammazzarli tutti nooo vai l'ultimo proprio l'ultimo vai vai si si vai muore madonna se se va e che cavolo eh porco di cristo dai si è incastrato lo zombie no no ti è liberato no me ne fugo ho bisogno della vita no dove te ne vai prendi la prendi la buona buona non so dove devo sparare porco zio scappa no perché do vai vola no la berta oddio madonna come l'ucciso l'ultimo poco bellissimo va bene raga direi di chiudere qua questo video su questo bel gioco spero che vi sia piaciuto se si lascia un like iscrivetevi al canale che facciamo già facebook trovate i link in descrizione con altri social e niente noi ci vediamo al prossimo video bella tutti ragazzi